Buonasera e ben ritrovati. Calcio, basket, atletica, ciclismo e pallavolo nel sommario della pagina sportiva. Da poche ore c'è stato il rompete le righe alla Lucchese per le feste di Natale. La squadra si ritroverà sabato pomeriggio per la ripresa della preparazione. Andiamo però a commentare il giorno dopo il pareggio di Reggio Emilia. Nel primo tempo la Lucchese in completo bianco se l'è giocata a viso aperto. La rete del solito opportunista Rosicco ha dato la speranza di poter compiere la grande impresa, soffocata in pochi minuti dal pareggio di Spanò. Da lì in avanti la gara è stata vincente e combattuta. Soprattutto in avvio di ripresa la Reggiana ha sediato alla metà campo della Lucchese. E lì, oltre ad un pizzico di fortuna, vedi palo, è emersa la bravura del portiere rossonero di Masi, autore di un paio di precevoli interventi. Se poi la traversa non avesse rimandato al mittente la conclusione di Rajcevic, chissà. Buono comunque il risultato di parità che dà continuità alla striscia dell'era galderisi. Da quando è arrivato il nano ha infilato cinque risultati utili con quattro pareggi ed una sola vittoria. Tutto ciò in attesa del mercato che già adesso, tra l'altro al termine del match di Reggio Emilia, si è diffusa la voce del possibile arrivo in rosso-nero di Davide Luppi, ex attaccante della Correggese, quest'anno in forza al Modena in Serie B. Vedremo. Certo è che il direttore generale Galli ha pronti almeno due o tre colpi che ridisegneranno la lucchese del nuovo anno e del girone di ritorno. Andiamo a vedere il riepilogo della diciottesima giornata del campionato di Lega Pro con tutti i risultati. Questa è la classifica a 90 minuti dalla fine del girone di andata. Ascoli 34 punti, si avvicinano Pisa e Teramo che sono a 32, l'Aquila 31, Reggiana 29, questo per le posizioni di vertice in coda. La lucchese rimane al quintultimo posto con 19 punti, chiude il Propiacenza a quota 10. Passiamo al basket. Il Bama al Topascio si regala un buon Natale in tutti i sensi. La squadra di coach Alberto Tonfoni, siamo nella C nazionale, ha infatti battuto 72 a 54 il Galli-Terranova. in una gara complicata e difficile, soprattutto fino all'intervallo lungo. Poi la squadra Rosa Blu ha preso il largo, trascinata da un grande Florindi. Per lui 23 punti, terza vittoria consecutiva e Bama che chiude il 2014 a quota 14 punti. Davvero non male. Rimaniamo al basket per andare al commento con le immagini e servizio che abbiamo preparato dell'ennesima vittoria del centro minibasket Junior Lucca. Il centro minibasket Junior Lucca chiude il 2014 con un successo, battendo 75 a 68 l'APL Livorno e suggellando nel migliore dei modi la festa di Natale del minibasket del settore giovanile che ha portato oltre 200 bambini sul parchè del Palatagliate. La partita si gioca su ritmi molto alti e difese allungate a tutto campo. Sono soprattutto gli ospiti a pressare, cambiando spesso difesa. Così, dopo un primo vantaggio lucchese, la formazione labronica riesce a piazzare il break con Dell'Agnello. La squadra di Piazza riesce però a recuperare, grazie al buon contributo di Savelli, va a riposo in perfetta parità, 30-30. Dopo l'intervallo lungo, Coach Piazza sceglie di giocare la carta a Biagioni che dà maggiore sicurezza a tutta la squadra contro il press di Vornese. Si arriva a 40-36 per i lucchesi ma la PL si aggrappa ancora una volta a Dell'Agnello che con un 6-0 riporta avanti i suoi e permette di allungare con i bianconeri che si aggrappano a loro volta a Biagioni e giovani Pierini e Porciani. Nell'ultima frazione una tripla di Sidotti sembra spaccare in due l'incontro, 53-59 a 6-22 dalla Sirena, ma Lucca rimane incollata al match, prima con Loni, poi con una tripla più fallo di Danesi torna a contatto. Poi Sidotti commette il quinto fallo e fallo tecnico, Biagioni non perdona e il CBM può ottenere l'inerzia del match fino alla Sirena, 75-68, altri due punti per confermarsi ai vertici del campionato. Il gruppo podistico Parco Alpiapuane ha festeggiato a Castelnuovo Garfagnani i successi del 2014 e presentato la stagione 2015. Vediamo alcune foto di questo evento. Grande attesa per la nuova squadra giovanile Fidal e per i molti appuntamenti agonistici nonché organizzativi che attendono la società. Tra l'altro la squadra assoluta si è rinforzata con l'arrivo del più volte azzurro Stefano Scaini e dell'ex campione italiano sui 1500 metri Giulio Iannone. Intanto il presidente Graziano Poli ha salutato e ringraziato i master Zampolini e Nicolini per il loro impegno profuso negli anni passati. Parliamo anche del gruppo sportivo Lammari che ha premiato gli atleti più meritevoli al termine di una stagione davvero esaltante, presenti tutte le atlete che con le loro prestazioni hanno portato il colore amaranto nel terzo gradino del podio a livello nazionale prima e per la settima volta consecutiva ai campionati regionali di cross. Vittorie importanti, ricordiamo come la Maratona di Lucca, un bel secondo posto a quella di Reggio Emilia successi a San Gimignano, Volterre e Pistoia. Premio speciale è andato a Fabio Salotti con il rinnovo del Consiglio tra l'altro un premio speciale poi alla presidente Teresa Todaro per gli otto anni di presidenza impeccabile mentre già si pensa al 2015. Ospite di buongiorno con noi Cristian Fanini, giovane team manager di Amore e Vita ha dichiarato che potrebbe profilarsi un nuovo stop per il ciclista lombardo Mauro Sant'Ambrogio almeno è quello che teme Cristian Fanini che però aggiunto la società continuerà a sostenere. Tra l'altro proprio in queste ore Sant'Ambrogio che vediamo qui con la compagna Ivano Fanini alla sinistra dei teleschermi e Cristian alla destra Sant'Ambrogio proprio in queste ore cercherà con i propri legali di far luce e chiarezza con l'U6 sulla vicenda Doping che l'ha di nuovo coinvolto solo pochi giorni fa. La palla a volo si è chiuso male il 2014 della Nottolinica Pandori nel campionato di B1 femminile, le bianconere di Sandro Becheroni sono state infatti battute 3 a 1 in casa da San Michele Firenze alla ripresa del campionato il 10 gennaio la squadra del presidente Baroni sarà di scena a Perugia sul campo della security seconda in classifica. Chiudiamo ancora con la palla a volo e alla fine la differenza tra Mirandola e la palla a volo massa ricordiamo che la squadra Puana gioca le sue gare interne a Camaiore ed ha una importante connotazione versiliese dicevo alla fine la differenza tra Mirandola e Massa l'hanno fatta battute servizi la compagine modenese si è imposta per 3 a 2 al tie break nulla da fare per la squadra di coach Grassini che tuttavia la palla a volo massa esce dal campo emiliano a testa alta con un punto in saccoccia che le permette di passare il Natale in testa alla classifica del girone D di serie B2 di palla a volo maschile. Complimenti alla palla a volo massa e con questo si chiude la pagina sportiva di questa sera io vi ringrazio per l'ascolto dopo una breve pausa pubblicitaria il Tg prosegue con la terza ed ultima parte a tutti voi la più cordiale buonasera